Allora, ieri abbiamo visto tutta una serie di esercizi su come trasformare le equazioni delle rette e piani dalla forma cartesiana, quella parametrica e viceversa. Per far questo abbiamo comunque introdotto in prodotto scalare il progetto di ortogonalità che vedremo poi generalizzeremo anche a IRN. Però, la prima cosa che vogliamo fare subito oggi è la norma in IRN. E cos'è la norma di immetture in IRN? La norma equilidea non è altro che la radice quadrata di V scalà di stessa. Quindi, non è altro che la radice quadrata della somma per I che va da 1 a N di V con I uguale. Questo perché stiamo in IRN. Ok? Se vi ricordate come si fa il prodotto scalare canonico, io devo fare la somma dei prodotti delle componenti amove che è in V scalà di V e devo fare la somma dei quadrati delle componenti. Poi però devo fare la radice quadrata e ottengo questa espressione. Ora, geometricamente la norma cosa rappresenta? Facciamolo nel caso di R2. Nel caso di R2, se io ho un vettore di coordinate X1 e X1, questo è V, la norma di V è esattamente la radice quadrata di X1 quadro più Y1 quadro. e che cosa rappresenta? La lunghezza del vettore stesso. O il modulo, se lo chiamate. Per quale motivo? X1 e questo lato qui, il C1 è la lunghezza di quest'altro cateto, applicando il chiarema di Pitagora, se viene che la lunghezza del vettore è rappresentata esattamente la somma. Lo stesso discorso vale in R3. Se siamo in R3, lo faccio qui, stavolta gli assi sono 3, X, Y e Z, prendiamo un vettore V di coordinate 1, 2, 3. Abbiamo sempre detto che bisogna scrivere perché si mette i campi, quindi si fa mettere la risposta. Allora, come facciamo? Quali sono queste coordinate? Allora, funziona così. Questa è la coordinata V1, questa è la coordinata V2 cioè la proiettate perpendicolarmente sul piano XY e ottenete la coordinata diciamo il segmento di perpendicolare è esattamente il 2, 3. Poi ottenete un punto nel piano XY che ha due coordinate queste due coordinate non sono altre la coordinata X è V1 la coordinata Y è V1. Adesso se volete fare la lunghezza di V3 come dovete fare? Dovete applicare il teorema di Pitagora ma il teorema di Pitagora a quale triangolo dovete applicare? A questo triangolo qui. Qual motivo? Quest'angolo qui è retto quindi questo è un cateto questo è un cateto e questo è un elico quindi la norma di V diciamo la lunghezza di V al quadrato a cosa risulta uguale? La lunghezza di questo segmento la chiamo L è uguale a L4 più X3 ma L4 a stavolta riapplicando il teorema di Pitagora a quest'altro triangolo qui e a questo cateto questo cateto e questa come potenza è uguale a X1 quadro più X2 quadro scusate V3 V1 V2 quadro quindi applicando due volte il teorema di Pitagora vediamo che l'interpretazione della norma coincide con quello della lunghezza geometrica anche nel caso di R2 quindi per noi la norma a questo punto rappresenta la lunghezza del vettore anche nel caso di Rm dove non possiamo dare disegno è chiaro? quindi chiaramente è definita tramite il prodotto scalare canonico quindi tramite l'algebra lineale però diciamo funziona benissimo in R2 e in R3 coincide con il soggetto di lunghezza del vettore quindi ce lo prendevano per buono anche per Rm maggiorissimo ok adesso come si fa la distanza di due punti la distanza metterò all'inizio è un'idea poi questa E spesso e volentieri la toglierò quando sarà chiaro che ci siamo distanza canonico distanza di un'idea tra due punti diciamo chiamiamoli P e Q invece di X e X stanno diciamo sempre l'eterno problema quali sono i nomi delle coordinate e quali sono i nomi dei vettori allora diciamo che P e Q cominciamo in R2 ho sempre se vi ricordate io posso interpretare i punti di R2 come punti come vettori in maniera adesso P avrà coordinate chiamiamole X1 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 Q avrà coordinate X2 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 devo fare la distanza tra P e Q se li interpreto come vettori allora intanto geometricamente la distanza da questi due punti come si fa? si deve fare la lunghezza di questo segmento che posso ottenere un'altra volta dal terreno di Pitagora applicato a questo triangolo ma questo triangolo se andate a vedere questo lato quanto è lungo? è lungo esattamente X1 meno X1 questo perché abbiamo preso X1 maggiore di X2 altrimenti sarebbe il segno opposto quest'altro lato è lungo Y1 meno Y1 non è importante il segno perché tanto adesso per applicare il teorema di Pitagora dobbiamo fare la radice della somma dei quadrati quindi se questa la lunghezza la chiamiamo L L cioè la distanza di P tra Q in questo caso non è altro che la radice quadrata di X2 quadro meno X1 quadro che è studiato X2 meno X1 tutto a quadrato più X2 meno X2 meno a quadrato ok somma dei quadrati dei cadetti poi facciamo la radice quadrati quindi questa qui non è altro che la norma di P meno P se lo facciamo in R3 possiamo vedere che funziona pure in R3 non me lo fate fare è la stessa cosa di primo e quindi noi prendiamo per definizione questa diciamo la distanza di terra prendiamo così in qualunque dimensione ok quindi come vedete dietro a questo fatto c'è un concetto molto importante che la presenza del prodotto scalare canonico induce in maniera naturale un modo di calcolare la lunghezza dei vettori che è la norma e la norma a sua volta induce un modo naturale di calcolare la distanza da due punti che è la norma della differenza vedremo che questo fatto è generale varrà per qualunque prodotto scalare e qualunque norma quindi ogni volta che avremo una norma avremo anche una distanza ogni volta che avremo un prodotto scalare avremo anche una norma e anche una distanza e poi potremo verificare che questi hanno certe proprietà però questo lo faremo poi in generale per adesso non vogliamo generalizzare troppo ma veniamoci su Rm su Rm quindi abbiamo il prodotto scalare canonico abbiamo visto come si fa quando fa 0 vuol dire che ecco per esempio come si fa a definire l'angolo formato da due ritori se chiamo un vettore v1 un vettore v2 anche se questi fossero in R17 questi sono contenuti in un piano piano dimensione 2 abbiamo capito che in R3 ci sono sottospazi dimensione 0 1 2 3 in R4 ci saranno sottospazi dimensione 0 1 2 3 qua e così via adesso supponiamo che questi siano in R9 ok allora come vettori io li faccio partire dall'origine allora questi due vettori hanno anche se chiaramente in R9 non posso fare il disegno però comunque ho l'origine poi ho il vettore a terra in un punto P e l'altro vettore come punto è rappresentato da un punto Q ok che sono due punti di R9 però sono sempre tre punti se i vettori non sono proporzionali tre punti non allineati per tre punti non allineati passa uno su piano proprio piano piano di dimensione 2 ok anche se fossimo livelli in R9 spazio in questo piano quindi io immagino di disegnare la situazione in questo piano piano di dimensione 2 si può disegnare immagino di disegnare la situazione lì in questo piano questi due vettori formano un angolo teta come si può misurare quest'angolo teta è molto semplice non sto a dare la diversificazione geometrica ma teta chi è? non è altro che l'arco coseno di v scalato doppio fratto norma v norma v ok allora vediamo un po' questo lo do per definizione ok lo do per definizione così non ci sta nulla da dimostrare ovviamente si potrebbe dimostrare che nel caso bidimensionale questo coincide effettivamente con l'angolo formato di vettori quando parliamo di angolo formato da due vettori o da due semirette quale si intende? si intende sempre quello compreso tra 0 e 180 gradi cioè tra 0 e pi di greco espresso e radiano allora noi vedremo che sia per il prodotto scalare canonico ma per qualunque prodotto scalare in generale questo numero che sta al numeratore in valore assoluto è sempre più piccolo del denominatore quindi questo rapporto è sempre compreso tra meno 1 e 1 e questo va benissimo per quale motivo? perché l'arco coseno è definito tra meno 1 e 1 poi se ci ricordiamo per esempio se il prodotto scalare fa 0 vogliamo che l'angolo sia di greco mezzi ma l'arco coseno di 0 è pi greco mezzi e quindi le cose tornano quindi quest'angolo è coerente con la nozione di ortogonalità che abbiamo introdotto il coseno vale 0 a pi greco mezzi se invece questo prodotto scalare per esempio facesse 1 cioè questo rapporto facesse 1 vorrebbe dire che l'angolo è nullo facciamo proviamo a fare degli esempi vediamo un po' se funziona allora prendiamo per esempio il vettore 1 1 2 e 2 4 allora questo è v questo è v2 che angolo lo formano? 0 allora andiamo a vedere la norma di v quando fa fa radice di 5 1 al quadrato più 2 al quadrato fa 5 radica 5 la norma di v2 fa radicale 20 perché 4 più 16 fa 20 e v e v scalare v2 fa fa 10 2 più 8 fa 10 adesso norma v per norma v per norma vw fa radice di 100 ma radice di 100 fa 10 quindi quando andiamo a fare il rapporto quanto viene? 1 quanto è là? 0 scusate andiamo a vedere per esempio per esempio cambiamo vw mettiamo sempre v uguale 1 o 2 e mettiamo w uguale 4 o 2 ok? ok allora stavolta abbiamo la norma di v fa sempre radical 5 la norma di vw fa sempre radical 20 la norma di v per la norma di vw fa sempre 10 perché le norme non sono cambiate la norma di vw non è cambiata perché è scambiata la norma quello che cambia è v scala vw prima avevo 2 più 8 che faceva 10 adesso ho 4 più 4 che fa 8 quindi stavolta θ non è altro che l'alto coseno di 8 decimi cioè 4 adesso se andiamo questo non è un valore preciso però se andiamo a prendere prendiamo la calcolatrice 4 diviso 5 la coseno in varianti fa circa 0,64 che siccome un i radianti in 360 gradi è pari ai 2 tg radianti quindi se vogliamo in grado possiamo moltiplicare per 180 e dividere per y che fa circa questi sono radianti fa circa 37 gradi 36,87 gradi ok ci sta che questi siano 37 gradi più o meno se vogliamo fare il disegno per bene ok facciamo un caso per esempio in cui siamo sicuri che stiamo a 60 gradi allora prendiamo 1 radica 3 poi prendiamo meno 1 radica 3 allora se vi ricordate radica 3 mezzi è il coseno di 60 gradi quindi un mezzo radica 3 mezzi corrisponde a un mettore che forma 60 gradi con l'asse delle ascisse quindi abbiamo che quest'angolo è 60 quest'angolo è 30 e quest'angolo vuole 3 allora proviamo ecco allora questo lo chiamiamo v questo lo chiamiamo v doppio allora la norma di v è uguale alla norma di v doppio che è uguale a 2 che devo fare la dice di 1 più 3 1 più 3 fa 4 è la dice di 2 quindi adesso la norma v scalare v doppio quanto fa fa meno 1 più 3 che fa 2 ok adesso teta è uguale la coseno di la norma di 2 per la norma di v doppio fa 4 poi al numeratore ci avete 2 e fa 1 mezzo quando è che il coseno vale 1 mezzo a 60 gradi prima scusate l'ho detto male era il seno ovviamente che è radico a 3 mezzo coseno vale cioè 60 gradi oppure pi greco 10 se voi prendete questo e lo raddoppiate e non succede nulla se prendete uno di due e lo raddoppiate che succede se ci metto 2v al posto di v e qua se vuole un 2 la norma si può vedere che si condivide per 2 quindi se vuole un 2 sia sopra che sotto quindi chiaramente allungando o accorciando uno dei due vettori l'angolo non non cambia ok o come vedete l'angolo essendo un arco coseno verrà sempre compreso tra 0 e pi greco cioè sempre compreso tra 0 e 180 gradi ed è così perché noi consideriamo sempre per esempio se noi rovesciamo questo vettore l'angolo non è questo ma si prende sempre questo quello più piccolo di cattiva ok quindi vedete che abbiamo una formula questa formula diciamo più che altro non è importante memorizzare la formula è importante collegarla e saperla ricavare in relazione al concetto di ortoconalità perché quando diciamo i vettori sono ortoconali quando il prodotto scalare fa 0 perché la coseno di 0 fa picca di comerci ma questa quantità vedremo che è compresa tra meno 1 e 1 quando dimostreremo la suguaglianza di Cossi-Schwarz la suguaglianza di Cossi-Schwarz dice proprio che il parola assoluto del numeratore non può mai superare il numero ok e quindi anche qui c'è un collegamento io questa quantità è compresa tra meno 1 e 1 quindi si può sempre fare l'alco coseno l'alco coseno viene sempre compresa da 0 a 3 e quindi è un angolo che angolo è esattamente l'angolo che forma è il due retorno non si tratta di cose complicate da capire funziona quindi in realtà non vale la pena di sprecare tempo si possono verificare in R2 e in R3 ma diciamo dimostrarle formalmente perché anche potremmo dimostrarle formalmente solo in R2 e in R3 ok invece questa definizione vale qualunque sia il vettore di R3 detto questo vi do una notizia buona e una notizia cattiva e la prima quella cattiva quella cattiva è che facciamo una di rata noi facciamo un intervallo la buona è che facciamo mezz'ora in mezzo per ovvi motivi ciao facciamo una e mezza insomma una e mezza silenzio come fate schillare ok allora adesso andiamo a svolgere un esercizio che ha un tipo di esercizio vediamo se riusciamo a fare almeno due di questo tipo che ha delle caratteristiche interessanti la prima caratteristica interessante dal vostro punto di vista è che un esercizio in genere è un esercizio del corpo quindi come tale dovrebbe risvegliare la vostra attenzione la seconda caratteristica interessante è che per farlo bisogna usare gran parte dei concetti che abbiamo espostosi in qui allora supponiamo di dare due rette allora una la scriviamo siamo in R3 e la scriviamo in forma cartesiana per esempio 3x-x-0 uguale 1 2x-x uguale 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 quindi qui abbiamo l'intersezione di due piani di R3 che ci daranno una retta come si fa a capire che questa intersezione è molto semplice allora due piani possono essere quali sono le possibili disposizioni di due piani in R3 possono essere coincidenti paralleli coincidenti in un altro cioè non ci sono altre possibilità ok il caso coincidenti è un caso particolare in realtà del caso paralleli ma come si fa a vedere se sono paralleli quando due piani sono paralleli il vettore ortoconale se vi ricordate è il vettore dei coefficienti A, B e C i vettori ortoconali devono essere proporzionali cioè devono essere lo stesso almeno di un coefficiente molti diversi ma qua è 3-1-1 qua è 2-1-1 non sono proporzionali quindi questi qua sono due piani incidenti sicuramente in una retta quindi questa è sicuramente in una retta ok però vi viene data in forma cartesiana adesso prendiamo un'altra retta S per esempio prendiamo la retta 0-1-1 più lambda volte meno 1 1 1 a variare di lambda è bastante poterlo questa retta l'equazione di questa retta l'ho data in forma parametrica adesso avete due retti quali sono le possibili le possibili disposizioni di due rette in R3 le due rette possono essere coincidenti o parallele comunque coincidenti in caso particolare di parallele possono essere anche incidenti e tutto questo potrebbe succedere pure in R2 ma c'è un'ulteriore possibilità che le due rette possono essere si dice sghembe cioè quando le due rette hanno direzioni di retta allora quando le due rette hanno la stessa direzione o sono parallele o sono coincidenti ma quando due rette hanno direzioni diverse in R2 si devono incontrare per forza poi vedremo vedremo che questo deve essere forza vedo per una regola diversa ma in R3 no altrimenti non si potrebbero fare le strade perché tu c'hai la strada che va di qua la strada che va di là questa la fai versata di sopra e quella passa di sotto puoi passare sotto per esempio ogni volta che passate sopra all'autostrada al diciamo casello di Cassino la strada diciamo statale va in una direzione la strada l'autostrada va in un'altra direzione la gente passa tranquillamente di sopra gli altri passano tranquillamente di sotto e non si sponda nessuno perché ovviamente le due rette sono sghembe chiaro? ok ora tra l'altro la possibilità che siano sghembe se le rette vengono scelte a caso è abbastanza probabile praticamente se venissero veramente scelte a caso avrebbe probabilità 1 se certi coefficienti venissero scelte a caso con una distribuzione uniforme però è chiaro che essendo spessi coefficienti scelti tra numeri interi qualche piccola probabilità che le rette siano parallele oppure siano coincidentici stai però diciamo molto più spesso le due rette sono sghembe adesso dobbiamo introdurre il concetto di distanza di due insiemi come si fa la distanza di due insiemi e e di due insiemi questa qua è l'estremo inferiore della distanza di P e Q dove P appartiene a D e Q appartiene a D allora le distanze se vi ricordate le distanze di due punti sono numeri positivi quindi l'insieme di tutte le distanze è sicuramente un insieme di numeri positivi e quindi l'estremo inferiore ovviamente è maggiore o uguale di 0 uno potrebbe dire ma perché parli di estremo inferiore potresti parlare di minimo effettivamente nel caso delle rette sarà il minimo però in generale bisogna parlare di estremo inferiore perché può succedere questo pensate allora se io ho due insiemi ad esempio in R2 è chiaro che c'è un'unica se questi due insiemi sono chiusi e uno dei due è limitato si può dimostrare che c'è un'unica coppia di punti di minima distante ok allora tu sai quest'isola qua quest'isola qua c'è un'unica coppia di punti qua ci sta qui e qua ci sta e quei due punti realizzano il minimo in questo caso Dpq è il minimo delle distanze di P0 Q0 per il quale è il minimo della distanza di Pq tali che P appartiene però può succedere anche una cosa del genere pensate al caso in cui io abbia per esempio un ramo dell'iperbole equilatera e gli assi cartesiani quindi un insieme è il ramo di iperbole equilatera l'altro insieme sono gli assi cartesiani qual è la distanza tra l'iperbole e gli assi cartesiani non c'è il minimo però la distanza c'è quanto fa? fa 0 l'estremo inferiore fa 0 perché come vedete se voi prendete per esempio un decimo ci sono una coppia di punti qua e qua che si rischiano meno di un decimo se prendete un centesimo andate più sopra anche se questi due insiemi sono disgiunti ovviamente se i due insiemi non sono disgiunti la distanza è sempre 0 perché basta prendere un punto che sarà tutte e due le parti faccio la distanza di P da P ovviamente mi viene 0 chiaro? però la distanza può essere 0 anche se i due insiemi sono disgiunti quindi però in generale bisogna scrivere estremamente 0 per quanto riguarda le rette però vedete in R2 voi avete due possibilità o le rette sono parallele allora se sono parallele per esempio pensate ai binari di una ferrovia la distanza è data dalla lunghezza di un segmento perpendicolare tutto e due le parti la distanza è unica mettiamo che diciamo le traversine sono lunghe un metro però in questo caso le coppie di punti di minima distanza sono tante perché se prendete le due rette di due binari ferroviari la distanza è sempre un metro però ce l'avete qua ce l'avete avanti ce l'avete avanti quindi ci sono infiniti coppie di punti che hanno distanza minima in R2 se le due rette non sono parallele sono per forza incidente quindi la distanza è zero nel punto di intersezione e se invece siamo in R3 la situazione è più interessante per quale motivo perché se stiamo in R3 una retta va di qua e una retta va di là però non è detto che le due rette si incontri cioè qua disegno la retta in questo modo per far capire che questa passa di sotto a quest'altra ok cioè non 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 singoli una diciamo in generale questa sta su un piano arizzontale e questa sta su un piano su quelle basse ok allora che succede che c'è un'unica coppia di punti P chiamiamoli P0 P0 che minimizzano la nostra distanza ovviamente questo capita nel caso in cui le rette siano incidenti perché in quel caso la distanza è 0 il punto di intersezione ma anche se sono sghembe perché c'è un'unica coppia di punti tale che questo segmento qua che è un vettore Q-P o P-Q sia ortoconale a tutte e due le direzioni allora ho cercato di fare la figura in maniera tale che si capisca facciamo vedere che se io prendo due altri punti qua li diamo P' e Q' la distanza di P' Q' è sempre maggiore della distanza di P0 da Q0 quindi questi qua sono i punti più vicini perché allora quali sono P0 e Q0 sono quei punti definiti in modo tale che il segmento che li congiunge cioè visto come vettore P-Q o Q-P sia ortoconale sia ad R che ad S come si faceva a vedere che erano ortoconali quel vettore e la direzione della retta relativa devono avere il prodotto scalare che fa allora perché allora sicuramente io so che questa distanza è minore è minore della distanza di P0 da Q' perché? perché è minore la distanza di P0 da Q' è evidente questo questo sveglia quest'angolo com'è? quest'angolo com'è? è il retto allora questo è un cadetro questo è un altro cadetro e questo è l'ipotenusa l'ipotenusa è più lunga del cadetro adesso andiamo a prendere quest'altro triangolo anche se della figura non è apparente non è evidente non è evidente in realtà ragionando un minuto si capisce subito che questa distanza qui è maggiore di questa perché? perché stavolta è questo angolo qui a essere retto perché? è che questa distanza qui allora quest'angolo è retto e questa è la perpendicola a questa allora questo qua è retto per il termine della tre perpendicola allora se questo è retto che vuol dire questo è un cadetro questo è un cadetro e questo è di voi allora questo è più lungo di questo e più lungo di questo questo cosa dimostra? dimostra che qualunque sia se lo fate dall'altra parte è uguale o se prendete un punto di qua un punto di là è uguale quindi questo dimostra in ogni caso la distanza di due punti qualunque questi li chiamavo PQ invece li chiamiamo Q' chiamiamoli PQ tanto allora vedete la distanza PQ maggiore la distanza P0Q maggiore la distanza P0Q potete farlo pure dall'altra parte la distanza PQ sarà maggiore la distanza P da Q0 e sarà maggiore la distanza P0Q in certi casi si può avere anche l'uguale ma l'uguale può avvenire solo se P è uguale a P0 se P è uguale a Q0 uno dei due uguali tutte e due uguali può avvenire solo se P è uguale a P0 e Q è uguale a Q0 quindi effettivamente questo inf chi è F è un minimo ed è la distanza P0QQ quindi quello che abbiamo detto dice che per trovare la distanza di due rette sghembe per trovare la distanza allora se devo trovare la distanza di due rette parallele devo trovare il piano che le contiene in quel piano devo prendere un segmento perpendicolare tutte e due che parte da una retta arriva sull'altra ma se devo trovare la distanza di due rette sghembe devo trovare l'unica coppia di punti che sta su una retta che sta sull'altra retta e che sia ortoconale ad ambe due rette ci siamo fino a qui non è non è complicato sto tornando indietro sto dicendo devo trovare questo segmento qua questo segmento qua come è definito è ortoconale a questa una R e l'altra S è ortoconale a R e adesso è ortoconale a S è chiaro in a qui ok una volta che ho trovato questo segmento allora la lunghezza del segmento è la distanza e i punti P0 e P0 sono i punti di minima distanza allora la domanda è lo vogliamo fare per queste rette? allora come come lo possiamo fare? lo possiamo fare in questo modo la prima cosa quindi ho portato in alto così lascio la figura visibile allora la prima cosa cosa da fare io vi ho dato le due rette una con l'equazione cartesiana e l'altra con l'equazione parametrica è meglio averle tutte e due nello stesso modo secondo voi mi conviene portare quella con l'equazione parametrica in cartesiana o quella con l'equazione col sistema cartesiano in equazione parametrica? la cartesiana in parametrica perché? perché la parametrica ha un grosso vantaggio solo la direzione della retta invece quando scrivo le equazioni cartesiane il sistema che mi dà l'equazione cartesiana della retta non è evidente no? solo che è una direzione che è ortogonale a quelle due a quelle di quelli perché la retta deve stare su due piante allora come si fa? come si fa? allora un modo è per esempio risolvere il sistema ma lo riscrivo qua il sistema il sistema era 3x-y meno z uguale 1 2x più y meno z uguale 2 allora per esempio facciamo la somma qua otteniamo 5x-2z uguale 3 quindi troviamo 5x uguale 2z più 3 quindi x uguale 2z più 3 quindi poi sostituiamo in una delle due per esempio nella seconda e dobbiamo fare 2x cioè 4z più 6 quindi più y meno z uguale 2 allora qui portiamo la z sopra e troviamo 6 meno z quindi più y uguale 2 ok? meno z portato sopra fa meno 5z 4z meno z fa meno 5z adesso portiamo dall'altra parte troviamo x uguale z meno 6 quinto più 2 che fa z meno 6 più 10 quinto fa più 4 quinto poi dipendo riscrivo la x x uguale 2z più 3 quinto e poi z uguale 3 adesso riscriviamo tutto in forma vettoriale allora abbiamo x y z uguale 3 quinto 4 quinto 0 perché vedete i termini nodi qua sono 3 quinto 4 quinto e qua non c'è più z volte che moltiplica la scuola è qua il quinto mi riferisce tutto e tutto z volte che moltiplica 2 quinti 1 quinto 1 ok allora un primo controllo che si può fare è z è rimasto libero e qual è motivo? le equazioni erano 3 2 le variabili erano 3 non possiamo risolvere tutte le 3 una deve per forza rimanere allora come si può vedere se abbiamo fatto bene allora questa qui se metto z uguale a 0 deve essere una soluzione che significa se la vado a sussurri nel sistema deve funzionare allora 3 per 3 quinti fa 9 quinti meno 4 quinti fa 5 quinti 5 quinti fa 1 e si trova perché poi 0 è uguale a 0 poi 2 per 3 quinti fa 6 quinti più 4 quinti fa 10 quinti 10 quinti fa 2 e si trova quindi questa qua funziona andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere l'altra questa qua se vi ricordate che cosa deve essere deve essere una soluzione dell'omogenea cioè quando la vado a sostituire deve funzionare ma non deve venire 1 e 2 deve venire 0 e 0 la vediamo 3 per 2 quinti fa 6 quinti meno 1 quinto fa 5 quinti cioè 1 meno 1 fa 0 2 per 2 quinti fa 4 quinti più 1 quinti fa 5 quinti meno 1 fa 0 ok tuttavia rimane il fatto quindi anche questa funzione rimane il fatto rimane il fatto che non mi piace molto come stanno scritto perché io potrei scrivere adesso che la mia retta r è uguale a questo punto più questo questo parametro lo chiamo lambda variare di a però per cosa non mi piace non mi piace il fatto che i vettori che sto utilizzando hanno delle coordinate frazionali allora come posso fare se vi ricordate i concetti che abbiamo espresso ieri come punto di partenza io posso prendere qualunque punto che sta sulla retta allora vi posso prendere un punto a coordinata interna sì basta mettere z invece che 0 un altro numero per esempio se metto 1 viene 3 quinti più 2 quinti fa 1 poi 4 quinti più 1 quinto fa 1 e 0 più 1 fa 1 quindi 1 1 1 e come faccio a controllare se ho fatto bene basta prendere 1 1 1 1 e vedere se funziona 3 meno 1 meno 1 viene 1 2 più 1 meno 1 fa 1 quindi questa qua è un'altra soluzione è un'altra soluzione allora l'area usato il parametro lambda qua usiamo il parametro mu allora qual è il problema? anche questo mi dà fastidio perché 2 quinti 1 quinto 1 allora cosa faccio qua non posso fare molto però qualcosa posso fare cioè la direzione questa è la direzione della retta se la voglio cambiare posso semplicemente moltiplicarla per una costante per uno scalare quindi invece di prendere 2 quinti un quinto 1 prendo 2 1 5 quindi la mia retta r è uguale a questo al variare che mi fa abbattamento a r naturalmente anche questo lo posso controllare perché se prendo 2 1 5 3 per 2 6 meno 1 meno 5 fa 0 2 per 2 4 più 1 fa 5 meno 5 fa 0 quindi come vedete questa è rimasta una soluzione dell'equazione del sistema non omogeneo e questa è rimasta una soluzione del sistema omogeneo ok adesso i conti li ho controllati posso anche cancellare i conti intermedi quindi ho ottenuto la mia retta è un'equazione parametrica potevo fare in altri modi ci sono tanti modi di fare questo esercizio per esempio un modo è se io voglio trovare la direzione della retta la direzione della retta la chiamo ABC allora cosa so della direzione della retta deve essere l'ortogonale a 3 meno 1 meno 1 quindi deve essere 3A meno B meno C uguale a 0 cioè deve essere la soluzione della prima equazione omogenea e poi deve essere 2A più B meno C uguale a 0 e allora mi vado a risolvere il sistema omogeneo ma quando mi vado a risolvere il sistema omogeneo per esempio viene 5A uguale 2C allora metto e poi per esempio metto C uguale 5 viene A uguale 2 e vado a sostituire adesso A uguale 2 qua viene 4 C uguale 5 meno 5 meno 1 poi tra l'altra parte viene B uguale 2 e ho trovato 2O ovviamente uno dei tre io l'ho sempre fissato arbitrariamente C no? ma quando sono arrivato a questa equazione è chiaro che se non voglio numeri frazionali mi conviene prendere C proporzionale a 5 e A proporzionale a 2 posso prendere 5 e 2 10 e 4 però meglio 5 e 2 sul più P chiaro? ok una volta fatto questo però rimane sempre il problema di trovare una soluzione del sistema non omogeneo allora per trovare una soluzione del sistema non omogeneo comunque la devo risolvere cioè devo fare come prima o ricavando una variabile oppure sommando eccetera quindi viene 5x meno 2z uguale 3 allora per esempio io cosa posso fare? posso mettere z una delle variabili la posso sempre scegliere io allora se z da momento 0 x mi viene 3 qui se z da momento 1 qua mi viene meno 2 porto all'altra parte qua mi viene x uguale 1 allora cosa faccio? adesso vado a sostituire per controllo posso fare due tutte le equazioni e vedo che qua mi viene 3 meno 1 che fa 2 porto all'altra parte 1 meno 2 fa meno 1 quindi viene x uguale 2 se lo faccio su invece nella stessa ok? e quindi anche così sono arrivato alla mia soluzione questa è una soluzione particolare perché non devo trovare a me non serve trovare tutte le soluzioni mi basta trovare una soluzione particolare e una soluzione dell'omogeneo perché nel momento in cui so che i due piani non sono paralleli sono sicuro se i due piani fossero paralleli la situazione sarebbe più complicata perché vuol dire che allora l'intersezione non è una retta perché se i due piani sono paralleli o l'intersezione è vuota o l'intersezione è tutto il piano chiaro ma se io vi ho detto che questa è una retta lo sarà però puoi controllare che i piani siano non paralleli nei momenti in cui sono non paralleli quella è una retta ed essendo una retta qui si deve intersegare diciamo in una retta quindi deve essere una direzione unica e basta che su quella retta prendi un po' un punto di traslazione chiaro fino a qui possiamo farlo in linea teorica possiamo farlo con qualche sporciatoia alla fine abbiamo portato la nostra retta che è scritta pure lei in forma parametrica adesso devo trovare il segmento di perpendicolare tutte e due come si fa? allora si fa così la prima cosa queste sono le direzioni delle due rette come vedete non sono proporzionali cioè le due rette non sono paralleli quindi sono o incidenti o stenti però incidenti va bene uguali cosa significa quando andate a fare le rette scheme il segmento viene di lunghezza come faccio a trovare il segmento perpendicolare entrambi la prima cosa devo trovare la direzione perpendicolare entrambi la direzione la chiamo APC allora devo scrivere che 2A più B più 5C deve fare 0 e che meno A più B più C deve fare 0 perché deve essere perpendicolare sia a queste che a queste e va bene allora a questo punto facciamo la differenza per esempio viene 3A più 4C deve fare 0 quindi 3A uguale meno 4C quindi per esempio posso prendere A uguale 4 C uguale meno 3 allora se questo è 4 e questo è meno 3 se andate a sostituire viene B uguale 0 ad esempio sostituire la seconda viene meno 4 più B meno 3 uguale 0 portate dall'altra parte in realtà va bene qualunque soluzione proporzionale a questa cioè va bene anche 4 terzi 7 terzi 1 il problema qual è? mi conviene usare 4 terzi 7 terzi 1 no perché è frazionale mi conviene usare 8 14 meno 6 no perché i numeri sono più grandi quindi alla fine mi conviene usare questa qua e questa qua per non far venire frazionale i numeri più piccoli io posso prendere 1 qua meglio 4 qua prendo 3 meno 3 ok allora verifichiamo ho fatto un errore perché io sottratto no non l'ho fatto nessuno perché adesso ottoconale non a questa questa e questa allora meno 4 più 7 meno 3 va 0 8 più 7 va 15 meno 15 va 0 è giusto ok adesso conosco la mia direzione ottoconale adesso cosa devo fare cosa devo fare cosa devo fare a un modo è questo questo punto qua lo chiamo q mu questo punto qua lo chiamo t lambda come è fatto il segmento e il congingio pi lambda q mu come vettore è la differenza di devo fare q mu meno pi lambda allora come deve essere questo vettore deve essere il proporzionale cioè uguale ad alfa per la direzione ortoconale la direzione ortoconale non me l'aveva segnata ma la ricordo era 4 7 ok allora andiamo a sostituire dobbiamo fare questo meno questo allora come si fa i termini nodi basta fare la differenza viene 1 0 2 viene 1 0 2 più mu 2 1 5 più lambda 1 meno 1 meno 1 uguale alfa 4 7 meno 3 cioè qui ho fatto la differenza dei due 1 meno 0 fa 1 1 meno 1 fa 0 1 meno meno 1 fa 2 quindi viene 1 0 questo è facile poi c'è il pezzo con la mu che è positivo perché sta qua e poi c'è il pezzo con lambda al quale devo cambiare segno invece di mettere il meno fuori lasciate più fuori e cambiate segno dentro questo è un fatto di esperienza perché in base a questa uguaglianza noi adesso andiamo a scrivere un sistema di tre equazioni sempre in poi quando andate a scrivere se il meno ce l'avete fuori ogni volta dovete cambiare segno vi impicciate e sbagliate invece se avete già cambiato il segno al vettore siccome quando avete cambiato segno al vettore l'avete fatto in sequenza cioè tenendo d'occhio il vettore originale cambiare segno a un vettore è difficile sbagliare chiaro ok questo che significa? significa che adesso voglio continuare di qua la figura non mi serve più la cangello allora cosa significa? significa che abbiamo 1 più 2 mu più lambda uguale 4 alfa poi abbiamo mu meno lambda uguale 7 alfa e poi abbiamo 2 più 5 mu meno lambda uguale meno 3 alfa questo è il nostro sistema non abbiamo fatto altro che leggere quell'uguaglianza vettoriale e trasformarla in un sistema di tre equazioni come lo risolviamo? come al solito cerchiamo di eliminare le variabili allora per esempio io posso eliminare lambda dalla prima e dalla seconda facendo la somma quindi viene 1 più 3 mu uguale 11 alfa posso eliminare l'alfa dalla seconda e la terza facendo questa meno questa quindi qua viene 2 più 4 mu uguale meno 10 alfa meno lambda meno lambda se ne va qua devo fare 2 più 4 mu perché devo fare la differenza meno 10 meno 7 fa meno 10 adesso se voglio fare dico viene moltiplicata la prima per 4 viene 4 più 12 mu uguale 44 alfa la seconda la moltiplico per 3 e viene 6 più 12 mu uguale meno 30 alfa e adesso faccio la differenza faccio questa meno questa e mi viene 2 uguale meno 74 quindi viene alfa uguale meno 1 su 36 allora vediamo se abbiamo fatto bene adesso non posso ancora controllare perché per controllare devo trovare anche prima muo e lambda e poi verificare però un primo controllo si può fare andate a prendere la il vettore ottoconale cioè quello 4 7 meno 3 andate a fare la somma dei quadrati quanto fa? 16 più 49 più 9 16 più 9 fa 25 25 più 49 fa 74 o a parte questo 2 che si è semplificato perché dall'altra parte se viene un numero proporzionale tranne qualche piccolo coefficiente che si può essere semplificato al somma dei quadrati vuol dire che probabilmente è fatto bene non è un controllo certo però diciamo se qua invece di venire l'anno viene 74 e qua c'era 73 è sicuro che è impiegato quindi questo controllo mi può essere utile per non andare avanti a fare altri conti se torno indietro controllo e penso che ho fatto bene invece adesso possiamo andare avanti adesso come faccio a riga male a mu per esempio abbiamo 1 più 3 mu uguale a meno 11 37 quindi 3 mu uguale meno 48 37 perché questo viene meno 37 meno 37 meno 11 fa meno 48 viene mu uguale meno 16 su 48 ok adesso andiamo a trovare lambda lambda dalla seconda è uguale a mu meno 7 alfa cioè meno 16 su 47 più su 37 scusate su 37 meno 16 su 37 meno 7 alfa fa più 7 su 37 cioè dovrebbe fare meno 9 su 37 lo rischio qua e questo è uguale a lambda adesso qual è il controllo che si può fare io certo posso sostituire qua dentro e vedere se il sistema originale è soddisfatto però c'è un altro controllo che se funziona qua non c'è nulla perché se non funziona il controllo devo tornare qua e vedere il corretto però questo non mi commenti per cancellarlo io vi ricordo io vi ricordo che qua c'era scritto che un mu meno il lambda era uguale ad alfa 4 7 meno 3 adesso cosa faccio chi è mu mu è meno 16 trentasettesimi allora andiamo a scrivere 1 meno 16 trentasettesimi allora come si fa? devo prendere 1 1 1 meno 16 su 37 2 1 5 quindi in trentasettesimi quanti ne ho? 1 sono trentasette trentasettesimi 16 per 2 fa 32 37 meno 32 37 meno 16 fa 21 37 meno 80 fa meno 43 questo è il punto Q lambda abbiamo detto che viene meno 9 su 37 quindi andiamo a calcolare P meno 9 su 37 allora come devo fare? l'equazione di P l'angolo sta scritta qua devo fare 0 1 meno 1 meno 9 su 37 meno 1 1 quindi in trentasettesimi devo fare 0 più 9 fa 9 37 meno 9 fa 28 meno 37 meno 9 fa meno 46 adesso se io vado a fare la differenza Q mu meno P lambda per questi valori qua cosa devo fare? devo fare un trentasettesimo poi devo fare questa differenza qua quindi quanto mi viene? meno 4 meno 7 più 3 ma se metto il meno in evidenza mi diventa meno un trentasettesimo per 4 7 meno 3 che è esattamente quello che doveva succedere perché questo dovrebbe essere uguale ad alfa volte 4 7 meno 3 alfa è questo e 4 7 meno 3 è uscito quindi quando faccio questo controllo io non solo ho verificato che i conti precedenti fossero giusti ma ho trovato anche questo è un punto che sta sulla retta questo sta sulla retta R questo sta sulla retta S e questi due punti sono i punti di minima di distanza quindi cosa che nell'esercizio è richiesta cioè quando io faccio l'esercizio chiedo non solo la distanza adesso la distanza quanto fa la distanza dovete fare la lunghezza di questo vettore qua come si fa la lunghezza di questo vettore qua è un trentasettesimo per la radice quadrata di settanta quattro perché? allora vedremo che i coefficienti che stanno a moltiplicare il vettore quando fate la norma semplicemente basta non dire il signore cioè inutile che fate 4 trentasettesimo al quadrato più 7 trentasettesimo al quadrato più 3 trentasettesimo al quadrato se voi fate 4 trentasettesimo al quadrato più 7 trentasettesimo al quadrato più meno 3 trentasettesimo al quadrato e poi fate la radice quadrata lo vedete che sotto potete mettere in evidenza 37 quadri si volta fuori e qui è un trentasettesimo quindi è inutile fare i quadrati così complicati dobbiamo fare solo i quadrati dei numeratori 16 più 49 più 9 che fa 74 e vi rimane un trentasettesimo per la radice di 74 allora questa è la distanza e questi sono i punti di minima distanza ci sono altri modi di fare questo esercizio possono fare alcuni determinanti ci sono varie procedure il punto è questa procedura la possiamo già applicare dopo quanti giorni di corso? manco 10 avendo introdotto un numero minimo di definizioni perché? perché tutto è logico quindi questa procedura non solo probabilmente la più per ora ma ogni passo che si va a compiere per risolvere l'esercizio ha un'interpretazione logica piuttosto chiara quindi un modo per essere controllato piuttosto simbolo basta per semplicemente ripetere se uno vuole riparare a fare questo esercizio basta ripetere questa cosa 5, 6 volte 7 volte una volta che l'hai fatto una retta due retti tre retti una volta che ti è capitato due retti paralleli e quant'altro diciamo vedrai è molto semplice da interpretare e da controllare allora ripetiamo questo è rimasto 5 minuti cosa abbiamo imparato oggi allora punto primo abbiamo imparato che se abbiamo un prodotto scalare canonico abbiamo anche la norma equildea cos'è la norma equildea di un vettore è la deciquadrata di V scalare se stesso questa è la lunghezza del vettore poi abbiamo imparato a fare l'angolo tra due vettori che è sempre compreso da 0 e pi greco ed è in radianti l'arco coseno di V scalare v doppio fratto norma v per norma doppio poi abbiamo imparato che se abbiamo la norma abbiamo anche una distanza tra i due punti o vettori che chi è è la norma della differenza distanza equilire che è la lunghezza del vettore di S bene come possiamo applicare questi concetti per esempio applicandoli a caso di determinare la distanza di due rette schede prendiamo due rette in R3 una la diamo con l'equazione cartesiana l'altra la diamo in forma con l'equazione parametrica l'altra la diamo in forma cartesiana con il sistema allora vogliamo determinare la distanza e i punti di minima distanza di queste due rette se le due rette sono sghembe sicuramente la coppia di minima distanza è unica e la distanza è ben definita la distanza è ben definita in ogni caso ma abbiamo anche che la coppia di minima distanza cioè i punti che realizzano la minima distanza praticamente quali sono i punti che realizzano la minima distanza immaginate avere due autostrade che viaggiano in direzioni diverse quando guardando da sopra potete guardare l'autostrada di sotto che sta sul piano orizzontale e il punto che sta sotto lo vedete esattamente a piombo sotto di voi quindi secondo la direzione verticale vuol dire che state sul punto di minima distanza di sopra e il punto di minima distanza di sotto è quello che ci avete sotto in verticale quando questo segmento è verticale questo piano orizzontale allora effettivamente il piano orizzontale sarebbe il piano che contiene la retta di sotto e la proiezione della retta di sopra che contiene la direzione della retta di sotto e la direzione della retta di sopra facciamo qui chiaro? ok allora come si fa praticamente si prende la retta in forma cartesiana si prende il sistema e si trasforma in equazione parametrica come si fa a controllare il fatto bene quando si trova l'equazione parametrica la soluzione particolare deve essere la soluzione particolare del sistema cartesiano la direzione della retta deve essere una soluzione del sistema omogeneo corrispondente al sistema cartesiano da e va bene poi si cerca di mettere le due soluzioni in una forma che sia comoda cioè tale che i numeri siano interi per esempio se viene dato i coefficienti razionali allora si può sempre fare in maniera tale che vengano interi e magari non troppo grandi dopo di che avete due rette entrambe espresse in forma parametrica allora cosa si fa si va a imporre la condizione che un punto della retta di sopra meno il punto della retta di sotto cioè il vettore differenza sia ortoconale a entrambe le direzioni ma essere ortoconale a entrambe le direzioni io mi faccio prima il vettore ortoconale a entrambe le direzioni che è unico a meno di un coefficiente di proporzionalità e poi vado a imporre che il numero di lambda sia uguale ad alfa volte o a nuvo volte come vi pare questo vettore è buono e ottengo un sistema di tre equazioni in tre incontri questo sistema di tre equazioni in tre incontri ha una soluzione unica questo lo dimostreremo poi più in là ma che abbia una soluzione unica è chiaro perché abbiamo già verificato che le due rette erano schemi cioè le direzioni erano diverse cioè non proporzionali ok allora una volta fatto questo si risolve il sistema come si risolve prima si cerca di abbiamo un sistema tre per tre allora si cerca di eliminare da due equazioni una variabile quindi arrivando a due equazioni in due variabili che è un sistema che avreste proprio dovesse saper fare già dalle sue due rette e a quel punto uno ricava una volta eliminata lambda uno ricava prima alfa poi mu poi lo passo a studiare in una delle equazioni precedenti ricava due rette a quel punto abbiamo ricavato alfa mu e lambda possiamo andare a verificare nel sistema ma ci conviene fare direttamente calcolare direttamente q mu qui lambda e vedere se la differenza soddisfa la condizione che abbiamo imposto che deve essere uguale ad alfa volte in questo caso il vettore era 4 7 meno 3 l'abbiamo fatta effettivamente risulta meno un trentasettesimo per 4 7 meno 3 alfa era meno un trentasettesimo funziona e tutto va bene potete che i conti sono stati fatti bene chiaro? adesso vi inventate le due rette vi fate il sistema vi fate l'esercizio per vedere il tutto funziona ok